Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta velocissima con mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, mascarpone, mais, sale, pepe e burro. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente lasciando un mestolo di cottura dell'acqua. Mettere nel boccale il burro e il mais. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 80 gradi, anti-orario, velocità 2. Aggiungere il mascarpone, il sale, il pepe ed azionare il bimbi per 3 minuti, 80 gradi, anti-orario, velocità 2. Trasferire in una ciotola capiente, condire la pasta e se dovesse essere necessario aggiungere un po' d'acqua di cottura ed amalgamare bene. Pasta velocissima con mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.